Ciao a tutti, notizia flash nel giorno che nasce, clamorosa, sensazionale, che riguarda la favola di Biancaneve e i sette nani. Allora hanno condotto degli studi, questa proprio è dell'ultima ora stamattina, sono le ore 7-5, quindi proprio flash dell'ultima ora, hanno condotto degli studi, hanno scoperto che i nani della favola Biancaneve non erano sette, ma dieci, dieci nani, sono stati omessi tre nani, una cosa clamorosa, sensazionale, che sconvolgerà gli equilibri della psiche di tutti i bambini di tutti i pianeti, c'è una cosa clamorosa, incredibile, mai pensato stamattina di dover dare queste notizie, sono stati omessi tre nani, allora c'era il nano che gli piaceva il mare, sapete come si chiamava? Jesolo, poi c'era quello che gli piaceva le montagne, si chiamava Andalo, poi quello che gli piaceva la topa, eccolo, ciao! Grazie a tutti!